Musica Cirio in turno al BCO conferma la riapertura della Galleria della Verta, novità anche per i danni dell'alluvione di ottobre. Capo compartimento Anas annuncia la riapertura del tratto della superstrada fra Premosello e Anzola d'Ossola. Avvicinare le montagne San Domenico Schia entro due mesi valuterà se proseguirà o meno nel progetto. Unione Industriale del BCO ha presentato i dati congiunturali primo trimestre dell'anno, evidenzia ancora incertezze. Dopo il via libera del DIRMEI, l'aslo del BCO dispone alla ripartenza delle attività ambulatoriali a partire dall'8 febbraio. Treni troppo rumorosi a Domo e Crevola d'Ossola, i cittadini reclamano interventi per mitigare l'inquinamento acustico. Ben ritrovati dalla redazione di BCO Notizie. È stata una lunga giornata quella che il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha avuto oggi nel BCO. Tanti incontri si è parlato di diversi argomenti, viabilità, turismo, investimenti sul territorio. Cirio ha annunciato una novità molto attesa da comuni e cittadini che hanno subito danni nell'alluvione dell'ottobre scorso. È anche annunciato agli amministratori che entro marzo arriveranno i fondi per interventi di sommorgenza che sono stati a carico dei comuni. È anche annunciato che la Regione metterà 7 milioni e mezzo per risolvere i danni che ci sono stati alle prime case. Sì, noi partiamo con risorse regionali perché abbiamo imparato che anche nei confronti di Roma vogliamo dare il buon esempio. Nel senso che noi pretendiamo che Roma faccia la sua parte perché il Piemonte quando c'è da pagare le tasse i piemontesi le pagano sempre e le pagano care. Nello stesso tempo però con risorse regionali interveniamo sul bene primario che è la prima casa. Quindi stiamo predisponendo un piano che divide tre fasce di intervento a seconda dell'entità del danno e che aiuterà tutti i privati, cittadini piemontesi che da questa alluvione così dura che abbiamo subito all'inizio ottobre hanno avuto un danno al proprio bene più prezioso, il bene principale che è la casa e noi non li lasceremo soli. L'ultima cosa quando viene una domanda sulla sanità è inevitabile, insomma da quel ottobre del 2019 sono passati oramai 17 mesi, so che recentemente c'è stata una richiesta anche a IRES di uno studio di fattibilità, di valutare quali sono le soluzioni migliori, ci sono delle novità? Le novità sono che noi vogliamo dare una sanità di eccellenza a tutti i territori del Piemonte, il diritto alla salute è un diritto che deve essere uguale per un cittadino che vive in una vallata di montagna della Val Vigezzo così come quello che vive in corso alla mano a Torino. Quindi noi dobbiamo garantire che gli ospedali ci siano, che non siano solo figli di valutazioni numeriche che sono sì importanti ma che non ci devono far dimenticare mai che la salute viene prima. Per cui la volontà di dotare il VCO di un ospedale moderno e efficiente c'è, rimane e rimane consolidata, così come vogliamo però non eliminare i presidi ospedalieri che ci sono a Omenia, che c'è a Verbagna e che invece sono un'ottima esperienza di buon governo della salute. Per cui con questo intendimento noi andiamo avanti, noi continuiamo a lavorare, evidentemente il Covid in qualche modo ha raffreddato un po' alcuni programmi ma ci ha anche però insegnato che sulla sanità non si taglia e noi non taglieremo di certo ora. Allora vi dicevo tanti temi trattati nella giornata di Cirio nella VCO, cerchiamo di capire di che cosa si è parlato. In primis di viabilità perché al forum è stato riconfermato il progetto della riapertura della Galleria della Verta. Sindaco, possiamo dire finalmente qualcosa si è mosso in maniera concreta sulla riapertura della Galleria. Tavolo qui a Omenia il 24 di febbraio, il 15 di aprile ANAS tornerà in possesso tra virgolette della Galleria, insomma penso che possa essere soddisfatto. Molto soddisfatto, direi che oggi il pragmatismo ha prevalso su una certa genericità, insomma sia sui numeri che sui tempi. Direi che il Presidente ha posto dei vincoli sia di tempo e quindi ci sarà questa conferenza di servizi del 24 molto importante per avere l'idea dei costi dell'intervento primario, cioè quello che ci consentirà di riaprire la Galleria a senso unico alternato e successivamente le conferenze di servizi verranno realizzate a Omenia, quindi sul territorio. Tempi certi e numeri certi che ci consentiranno di velocizzare al massimo la riapertura della Galleria. Avete già iniziato a studiare come impostare questo senso unico alternato, visto che la scelta finale mi sembra di aver capito su come organizzarlo sarà proprio del Comune. Abbiamo già iniziato a discutere del senso unico alternato, è stata esclusa la possibilità che sia un senso unico con semafori contemporaneo, discuteremo probabilmente su un senso unico a scendere da nord a sud durante una parte della giornata e a salire da sud a nord nel resto della giornata, quindi è la soluzione più ragionevole. E continuiamo a parlare di viabilità perché a Omenia c'è anche il capo compartimento dell'ANA, Sangelo Gemelli. Al nostro microfono ha parlato degli investimenti programmati dall'ente nazionale strade sulle statali di casa nostra. E poi una novità attesa da chi viaggia ogni giorno lungo la superstrada del Sempione perché dovrebbe riaprire a breve il tratto tra Premosello e Anzola. Per quanto riguarda l'attuale chiusura che vige dal mese di dicembre o subito dopo Natale, insomma in quelle festività natalizie, a giorni verrà riaperta la superstrada. Noi come ogni anno abbiamo completato le attività di ispezioni visive e approfondite sulle opere d'arte, quindi che hanno visto la necessità di chiuderla per effettuare le operazioni di ispezione. E adesso, individuata la modalità di apertura, eseguiremo praticamente l'ordinanza di apertura di qui a qualche giorno. Per quanto riguarda gli altri investimenti, ANAS continua ad essere presente sul territorio del VCO. Abbiamo grandi fonti e linee di finanziamento dedicate solo alle statali del VCO. Ricordo il piano itinerario della statale 33 del Sempione che da solo vale 30 milioni. I 35 milioni che sono stati frutto di quell'accordo di programma tra Ministero, ANAS, Regione e Provincia, che invece sono dedicati solo per la strada statale 34. Di questi, già una prima trancia di 1 milione e mezzo è in corso di esecuzione. A breve consegneremo i lavori della seconda trancia di 4 milioni e mezzo e in quest'anno ultimeremo le procedure burocratiche per le autorizzazioni per le gallerie paramassi. Sono già in corso le autorizzazioni paesaggistiche, quindi la prassi usuale per un lavoro di questa importanza perché solo le gallerie paramassi si aggirano intorno ai 27 milioni di investimento. Quindi richiede anche una linea autorizzativa abbastanza complessa. Anche nella Val Vigiezzo si parte con il primo intervento dei 10 milioni sulle pendici, in due stralci un primo milione subito, i 9 milioni subito dopo. Stiamo eseguendo lavori per circa 4 milioni anche sulle opere d'arte della Val Vigiezzo. A breve anche l'utenza se ne renderà conto perché imporremo una serie di limitazioni al traffico che sono conseguenti e necessarie per effettuare i lavori. E chiudiamo questa pagina dedicata alla viabilità per aprirne un'altra. Questa volta trattiamo il tema del turismo perché di questo si è parlato anche con il Presidente della Giunta regionale. Fra le questioni affrontate anche quella del progetto Avvicinare le Montagne, sapete quel progetto turistico che vuole lo sviluppo del comprensorio Devero-Ciamporino, un progetto che è anche contestato sul territorio. Sentiamo qual è la posizione di San Domenico Schi. San Domenico Schi attenderà fino a marzo prima di rivedere il suo impegno nell'ambito del progetto turistico denominato Avvicinare le Montagne. Lo ha detto la società di Vedrina questa mattina partecipando al tavolo convocato dalla regione Piemonte-Aumenia. Fra i tanti temi trattati si è discusso infatti anche di turismo e montagna. I vertici del gruppo che da anni gestisce gli impianti della Valle di Vedro hanno riconfermato gli investimenti promessi, circa 130 milioni di euro a cui si andrebbero a sommare i fondi pubblici, 43 milioni. Una cinquantina sono invece gli interventi infrastrutturali, 4 i comuni coinvolti, Varzo, Baceno, Trasquera e Crodo. San Domenico Schi, unico partner privato del piano di sviluppo del comprensorio scistico Ciamporino-Devero, si è dato a tempo un paio di mesi. Poi, in assenza di cambiamenti, valuterà la sua posizione. In altre parole, è pronta al disimpegno se dalla regione non arriverà un segnale forte. Al presidente Cirio, San Domenico Schi ha chiesto di non essere solo spettatore del progetto, ma di diventare parte attiva, attore protagonista, guidando il processo di sviluppo. Un messaggio chiaro, una sorta di out-out. La posizione espressa questa mattina al forum arriva a pochi giorni dal convegno, promosso dal comitato Salviamola al Pedevero, un evento organizzato online per festeggiare le 100.000 firme raccolte con la petizione lanciata sul web contro il progetto Avvicinare le Montagne. Gli ambientalisti invocano un piano di sviluppo sostenibile per il comprensorio alpino che collega a Devero, San Domenico. I comuni, che assieme alla società di Vedrina hanno lanciato e sostenuto negli anni il progetto che ridisegna i collegamenti fra le due ballate, hanno sempre sostenuto che si tratta infatti di un piano studiato per rispettare l'ambiente. E ancora a proposito di turismo, a livello regionale è in atto una discussione su come riorganizzare gli enti che si occupano della gestione e programmazione del turismo nella nostra regione. Alla tavola omenese dunque c'era anche Francesco Gaiardelli, che è il presidente del distretto turistico dei Laghi e dell'Ossola. Il tema importante era quello di un possibile ampliamento di questa TL in modo tale da valorizzare i laghi, le montagne e tutto il massiccio del Rosa. Si andrà in questa direzione? Dunque stiamo facendo delle valutazioni. Chiaramente noi in assemblea riporteremo quanto è emerso nelle nostre prime consultazioni sia con i privati che con il pubblico e soprattutto rispetto a quella che è l'espressione di questo attuale CDA che sta guidando il distretto turistico. La discussione è aperta, cerchiamo assolutamente di portare a casa il massimo dei risultati e soprattutto speriamo di riuscire ad essere il più autonomi possibili. Stamattina in questa riunione con il presidente Cirio abbiamo prospettato un'ipotesi e una possibilità che sarebbe una soluzione importante e credo vincente per il nostro territorio. Non voglio ancora dare anticipazioni perché non è ancora ufficiale però siamo su una buona strada. Il tema è sempre quello, la discussione è aperta però non c'è ancora nulla di definito. Noi siamo un'eccellenza, questo è fondamentale. Siamo un territorio che ha una grande vocazione turistica e vogliamo assolutamente che Regione Piemonte riconosca questa nostra eccellenza territoriale che, ripeto, nel 2019 pre-pandemia faceva qualcosa come quasi 4 milioni di presenze turistiche. Quindi questo nostro riconoscimento deve essere assolutamente il punto di forza per qualsiasi tipo di trattativa e per qualsiasi tipo di possibile eventuale fusione. Però se riusciamo a restare autonomi saremo contenti. A te piacerebbe una TL un po' più allargata? Una TL più allargata potrebbe essere una buona soluzione là dove ci fossero e ci siano comunque le condizioni, come ripeto, per una collaborazione trasversale. Mi spiego bene. È difficile entrare in un contesto nuovo e mettere d'accordo dei territori disomogenei fra di loro. È già faticoso, lo sapete, qua nel nostro piccolo Verbano Cusiossola quindi in un territorio più allargato potrebbe essere ancora più problematico. Però, ripeto, in una visione futura dal punto di vista proprio del marketing turistico le macro piattaforme turistiche sono senz'altro più appetibili rispetto a dei territori più piccoli e più circoscritti. A Villa Pariani oggi il presidente dell'Unione Industriale della Verbano Cusiossola ha presentato i dati economici ha fatto il punto relativamente al 2020 un anno davvero nero e ha dato le prospettive per il primo trimestre 2021. Questa analisi non può che partire da una considerazione nazionale i vaccini e poi la situazione politica. Noi abbiamo tre grandi emergenze sanitarie, economiche e abbiamo anche un nuovo governo che speriamo che si costituisca presto. Le confindussi a Piemonte perché vogliamo organizzare le vaccinazioni al nostro interno. Quindi quando saranno pronti i vaccini noi possiamo effettuare le vaccinazioni all'interno delle nostre imprese. Si è appena concluso un anno caratterizzato dalla pandemia, un anno molto difficile. Come le nostre imprese hanno reagito e quali sono le prospettive per il 2021? Per quanto riguarda l'anno 2020 abbiamo avuto un ricorso alla cassa integrazione come potete immaginare durante il lockdown abbiamo raggiunto anche il 30% delle aziende. Attualmente siamo intorno al 20% e noi siamo confidenti che questo numero scenda in maniera importante con la ripresa dell'economia e quindi con le vaccinazioni. Gli ordinativi totali siamo partiti da un 6,9% da inizio anno 2020 per arrivare a un meno 3,2% dove c'è stato un ribalzo negativo molto forte che è stato nel terzo trimestre cioè siamo arrivati addirittura a meno 35,7%. Anche qui le nostre previsioni sono di un miglioramento che vada oltre il meno 3,2%. Un dato positivo per quanto riguarda gli ordinativi export ovviamente c'è stato nel secondo e terzo trimestre un calo importante siamo a meno 22% meno 20% nel terzo trimestre nell'ultimo trimestre il dato è positivo siamo arrivati a 13,3% quindi da meno 20,8% siamo arrivati a 13,3%. Quindi questo è un dato che ci fa ben sperare noi riteniamo che questo dato sia dovuto alla eterogeneicità delle nostre aziende quindi non si sono dei distretti monolitici che sono andati in crisi quindi le aziende andavano in crisi tutte insieme ma siamo riusciti a mantenere questo export in maniera importante tenete conto che quando un export così forte vuol dire che le aziende sono strutturate e quindi questo è un dato importante vuol dire che abbiamo aziende mature che sanno praticamente muoversi sui mercati internazionali che sono mercati complessi siamo andati a guardare dove ci sono delle criticità le aziende che possono avere delle criticità e quindi delle diminuzioni nella produzione sostanzialmente sono aziende che in qualche modo sono legate all'alimentare e sono aziende che già precedentemente alla pandemia avevano delle difficoltà quindi con le problematiche che abbiamo avuto con la pandemia eccetera è chiaro che queste difficoltà si sono accentuate la sanità il dipartimento interaziendale che si occupa di coordinare l'emergenza sanitaria in Piemonte ha dato il via libera alla ripresa delle attività ambulatoriali a livello locale da lunedì prossimo 8 febbraio sarà riattivata l'attività ambulatoriale ordinaria dell'asla VCO come previsto dalla nota del DIRMEI che prevede una sua progressiva ripresa secondo l'ordine di priorità dei prenotati a suo tempo sospesi senza interferenze con le attività di vaccinazione e di tamponi né tantomeno togliendo risorse utili per l'assistenza a pazienti covid riprenderanno ad operare i poliambulatori di Villa Dossola Strese e Cannobio e le prestazioni odontoiatriche saranno erogate presso tutte le sedi ambulatoriali con il richiamo delle persone che nei mesi scorsi hanno avuto l'appuntamento sospeso attenzione i pazienti saranno richiamati dall'asla pertanto non sarà ancora possibile prenotare ai cup prestazioni in classe D e P almeno fin tanto che non saranno recuperate tutte le prenotazioni sospese rimangono sempre garantite le urgenze nelle prossime settimane anche gli ambulatori ospedalieri e le prestazioni di radiodiagnostica e di fisioterapia riprenderanno progressivamente con le medesime modalità così come le attività chirurgiche ordinarie e le visite in regime di libera professione in proporzione all'attività ambulatoriale l'erogazione delle attività ambulatoriali potrebbe essere rimodulata in qualsiasi momento in caso di mutamento del quadro pandemico rimane confermata la tutela specifica e la continuità per lo screening oncologico prorogata sino al termine del periodo emergenziale ad oggi fissato al 30 aprile 2021 la validità dei piani terapeutici dei farmaci fatto salvo l'intervento di nuove e differenti disposizioni e oggi l'unità di crisi della regione Piemonte ha comunicato 819 nuovi casi di persone risultate positive al covid 61 di questi risiedono in provincia di Novara 56 nel VCO i decessi in Piemonte sono stati 25 1 nel Verbano Cusiossola nessuno nella Novarese i ricoverati in terapia intensiva diminuiscono di 5 unità sono la 147 calano di 46 i ricoveri non in terapia intensiva i pazienti i guariti in regione sono 867 così suddivisi 72 nel Novarese e 28 nel VCO ora invece parliamo di treni i treni rumorosi perché un appello torna a lanciarlo l'ossola il tema dell'inquinamento acustico causato dal passaggio dei treni a Domodossola ed intorni è nuovamente al centro del dibattito locale a rispolverare il tema sono stati due volti storici del comitato treni rumorosi Domenico Mallone e Giuseppe Sterpone a distanza di qualche anno sono tornati sul tema sollecitati dai residenti dei quartieri di Domo e Crevoladossola vicini alla linea ferroviaria del Sempione ma non va meglio neppure nella parte sud della città quella attraversata dalla linea ferroviaria Domo-Dossola Novara tutti denunciano il continuo aumento del numero dei treni merci in transito e soprattutto ai maggiori carichi di trasporto dei convogli è cambiata la composizione dei treni dicono infatti Mallone e Sterpone siamo passati da 15 carrozze a 21 in alcuni casi e a livello ambientale il tutto si traduce in maggiore inquinamento e non solo acustico ad estare ulteriori timori sono anche le notizie circa il futuro insediamento a Domodue allo scalo di una società tedesca questo spiegano Mallone e Sterpone significherà un aggravio della situazione i problemi maggiori si riscontrano soprattutto durante le ore notturne per questo motivo Mallone e Sterpone sono tornati in campo per chiedere alle amministrazioni comunali locali di adoperarsi presso il RFI perché si dia corso alla posa di pannelli fonoassorbenti in grado di mitigare i rumori Domodossola nelle stesse ore in cui due ex comitato treni numerosi lanciavano il loro appello ha rinnovato il suo impegno su questo fronte la giunta di Lucio Pizzi nella delibera con cui si chiede la costituzione di un comitato intergovernativo per il Sempione ha chiesto come atto prioritario che si torni al tavolo per programmare gli interventi per ridurre gli effetti dell'inquinamento causato proprio dal passaggio dei treni in città e a proposito di questo argomento è stato rinviato l'incontro che Alberto Gusmerolli il deputato leghista e vice sindaco di Arona avrebbe dovuto avere oggi con i vertici di RFI al centro di questo incontro proprio la situazione della stazione di Arona i disagi dei pendolari il rumore le barriere fono assorbenti che reclamano i comuni della linea ferroviaria Domodossola Milano il perché di questo rinvio adatta da destinarsi è sicuramente legato alla situazione politica la crisi del governo parliamo ora di Carnevale vi abbiamo già detto dei cambiamenti a Domodossola in Valle Vigezzo nessuna giubiascia nessuno spettacolo alla fabbrica né tantomeno la sfilata in centro a Villa Dossola quest'anno il comitato Carnevale si dovrà arrendere a causa ovviamente della situazione sanitaria e delle restrizioni imposte non sarebbe possibile fare diversamente dice il presidente Sabrina Lucio iniziative online non sarebbero adatte al nostro pubblico mentre attualmente non è possibile organizzare nulla di concreto appuntamento quindi al prossimo anno anche se uno spiraglio sembra aprirsi per l'estate Sabrina Lucio dice stiamo valutando la possibilità di organizzare qualcosa appunto la prossima estate ma attualmente sono solo ipotesi e ora trasferiamoci nella Vergante dove le amministrazioni hanno fatto rete e hanno cercato di capire quali sono i bisogni dei giovani di quella realtà hanno stilato un questionario è stata accorta con entusiasmo in diversi comuni del Vergante la partecipazione al bando Fermenti in Comune proposta dal Lanci con lo scopo di promuovere il protagonismo giovanile l'assessore alle politiche giovanili di Invorio Anna Barbaglia coadiuvata dai consiglieri Michele Lopez Cinzia Mastroianni dopo aver redatto in questionario Il Paese che Vorrei accolto anche dal comune di Bolzano Novarese e raccolto i dati provenienti dai giovani dai 16 ai 35 anni ha dato il via alla pianificazione del progetto Il coinvolgimento diretto dei giovani ha permesso di identificare i bisogni sociali della popolazione giovanile e progettare soluzioni Il lavoro di rete è stata la vera ricchezza dell'esperienza lo scambio di buone prassi e il coinvolgimento dei soggetti interessati sarà garanzia di una sostenibilità futura Hanno sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione del progetto Giovani in Cammino i seguenti attori Comune proponente Invorio Partner Bolzano Novarese Meina Ameno Massino Visconti Nebbiuno Paruzzaro Pisano Lesa e Colazza Altri partner sono il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socioassistenziali CIS di Borgo Manero con Laura Magistrini Il Corpo Volontario Intincendi Boschivi I.B. Luigi Cerutti di Invorio con Alfonso Curella L'Associazione Culturale Dragolago di Bolzano Novarese con Marco Mario Paolo Peduzzi L'Associazione O.D.V. Orizzonti di Invorio con Giovanni Bassetti L'Associazione Volpi di Invorio con Gianluca Tieghi L'Associazione Promozione Sociale L'Essenza dell'Essere di Invorio con Fabrizio Sacchi La cabina di regia dell'Associazione Temporale di Scopo creata per il rilancio del piano educativo integrato del Vergante è presente sul territorio dal 2009 presieduta ora dal dirigente scolastico Domenico Rodolfo Sarli è stata determinante per il coinvolgimento di un maggior numero di partner Ora uno sguardo alla nostra programmazione domani giovedì alle 18 ritorno all'appuntamento con l'Infinito dentro un bisogno la trasmissione a cura della CST Novara VCO che sarà anche nella replica nella giornata di venerdì alle 13 e 21 e 30 ma sentiamo quali saranno i contenuti L'ospite dell'incontro di questa settimana è un ospite particolare anzi direi che è un volto a voi tutti noto e che sarà presente con noi parlandoci di Fondazione Comunitaria del VCO e sarà il presidente Maurizio De Paoli allora con lui affronteremo alcune tematiche sicuramente di grande attualità parleremo di come è andato il 2020 dei bandi e dunque dei progetti arrivati nel 2020 e soprattutto delle donazioni che sono state molto cospicue arrivate in questo momento di particolare difficoltà ma parleremo anche del ruolo della Fondazione e dei progetti e delle proposte che la Fondazione farà per il 2021 per cui se volete sapere cosa accadrà come è andato quest'anno e cosa accadrà seguiteci l'ospite sarà appunto Maurizio De Paoli Fondazione Comunitaria del VCO grazie a Carlo Teruzzi io invece mi fermo qui vi rimando al nostro sito viceazzurratv.it poi le pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie e buon proseguimento grazie a tutti